Victoria Beckham ha una sosia, ed è ancora più sexy di lei Lo stile di Victoria Beckham è super imitato. Il suo taglio di capelli, il suo outfit. Ma c'è chi all'ex speech e girl somiglia per davvero. Ed è tutto merito di madre natura, con l'aiutino del chirurgo Aizano China, modella russa 32enne, vanta su Instagram 1.4 milioni di fan, che non fanno che commentare le sue immagini paragonandola a Victoria Beckham. Anche se, nell'ultima campagna che l'avete protagonista, sembrerebbe ben più ok Modella, presentatrice tv ed ex moglie del rapper Guf, che in Russia è molto popolare, Aizano China, sul web, è una vera celebrità Oltre alla sua innegabile bellezza, c'è però un particolare che salta all'occhio scorrendo le sue foto, la modella 32enne e la copia, più o meno esatta, di Victoria Beckham Stesso colore dei capelli solo un po' più lunghi, stesso volto imbronciato con tanto di zigomi scavati, smisurato amore per i figli, 4 per Victoria, 2 per lei, e un grandissimo gusto nel vestire, Aiza sembra davvero la gemella dell'ex posh speech Oggi, però, la modella che dopo il divorzio da Guf, arrivato nel 2013 dopo 5 anni di matrimonio, si è risposata nel 2015 col surfista Dmitriano Kinzi mostra e suoi 1.4 milioni di fan in una veste super sexy In occasione del lancio della sua collezione di gioielli, complimenta Baia Iza, la Anokina è infatti stata protagonista di una campagna pubblicitaria in cui è ritratta completamente nuda, coperta solo di una vernice blu piena di glitter Il video, che ha superato il milione e mezzo di visualizzazioni in poche ore, è in effetti la quintessenza della sensualità E probabilmente, Victoria Beckham quella vera, non lo avrebbe mai girato e c'è chi, tra i commenti, paragona Aiza a una ninfa. Chi definisce quella clip puro sesso Chi parla di una bellezza irraggiungibile. E chi come sotto ogni suo post la accosta all'ex pop stare oggi stilista In realtà, Aiza Anokina è anche vittima di un vero e proprio accanimento mediatico, molti sostengono infatti che la sua bellezza sia solamente il frutto di decine di interventi chirurgici, oltre che di un regime d'allenamento sfiancante In effetti, in passato, Aiza si è per davvero sottoposta alla liposuzione di addome e braccia. E c'è chi giura che si sia fatta impiantare anche delle protesi nei glutei Originaria della città di Grodni, nella Repubblica Cecena, Aiza Anokina della sua adolescenza non ama parlare Quasi inesistenti sono le foto del passato che pubblica sul suo account, mentre moltissime sono quelle che la ritraggono insieme alla sua famiglia. Soprattutto, insieme ai suoi due bambini Come del resto fa anche Vittoria. C'è chi tra i suoi fan definisce Aiza addirittura più bella della 43enne moglie di David Beckham Chi la considera una fonte di ispirazione, e chi la critica, chiedendole a smettere di fare il clone di Vicky In effetti, oltre ad assomigliarle fisicamente, la Anokina sembra davvero volerla imitare, nei tutorial beauty che condivide, nella scelta dei vestiti. Persino nelle pose, con quel volto sempre un po' di traverso e la bocca che non sorride Che ne penserà la vera Vittoria Che ne penserà la vera Vittoria Che ne penserà la vera Vittoria Che ne penserà la vera Vittoria